Tourism Investment 2017, siamo qui al Meli Hotel Milano per raccontarvi dell'evento dedicato agli investimenti immobiliari turistici. Siamo qui in questo caso con Andrea Ferrari, uno dei responsabili, buongiorno, degli sponsor tra l'altro, che si chiama Per Dormire, il 100% di riposo italiano, giusto? Giusto, corretto. Raccontaci un po', prima domanda, perché per voi è importante essere qui come sponsor in questo evento? Dunque, per noi innanzitutto buongiorno a tutti. Per noi è importante partecipare come sponsor, appunto, ringraziamo peraltro per la presenza, per il fatto che ovviamente si parla di investimento dal punto di vista del turismo, investire oggi vuol dire credere, credere in qualcosa. Quindi il fatto di investire, appunto, significa aver fiducia e ovviamente il mondo del materasso e della qualità del sonno è ovviamente sulla bocca di tutti in questo momento. E per noi è fondamentale poter appunto partecipare a questo evento in qualità, appunto, di esperti del settore della qualità del sonno. Per dormire, ovviamente per chi non lo avesse capito, appunto, è un'azienda di produzione di materassi e quindi si parla del mondo letto. E quindi perché è importante a questo punto investire in un buon riposo? Dunque, l'investimento sul riposo è, dal punto di vista, poi collocandolo dal punto di vista dell'albergo, è importantissimo per il fatto che l'ospite sempre di più deve sentirsi a casa sua. E quindi per sentirsi a casa la cosa fondamentale è dormire bene, no? E quindi siamo convinti del fatto che, appunto, la qualità del sonno sia il bigliettino da visita di tutte le strutture. Ovviamente l'investimento è doveroso dal punto di vista, appunto, del dormire. Bene, direi che comunque abbiamo toccato i temi principali, quindi non solo l'investimento nel mattone, ma anche nel benessere, nel dormire, che è una delle cose più belle e importanti che ci sia. Ai microfoni di MediaTelradio è tutto con André Ferrari per dormire. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.